Buongiorno a tutti, buonasera. Io sono Massimiliano Fannicanelle, sono il presidente di Auxilia. Vi racconto brevemente che cos'è Auxilia, perché poi ci sarà un filmato di cinque minuti che racconterà le attività che facciamo in Sri Lanka. Poi ci saranno i saluti delle autorità che siamo onorati di avere qua e poi racconteremo finalmente il lavoro e lo sviluppo dei progressi di Pratepa, la nostra ragazza che abbiamo portato dallo Sri Lanka. Auxilia è un'organizzazione senza fine di lucro, è una onlus, che nasce dalla collaborazione di tante anche altre associazioni, nasce dall'associazione SPES, di cui abbiamo il presidente Marcello Gaspa, con cui inizialmente abbiamo cominciato a fare attività umanitarie e che poi si sono evoluti a tal punto in attività anche culturali e quindi è nata Auxilia che un po' ha inclobato tutto e ha cominciato a creare delle collaborazioni con altre associazioni come il Focolare Onlus, come Milina, creando una grande scatola dove tante persone con obiettivi diversi si uniscono e collaborano per raggiungere dei risultati che altrimenti da soli non avrebbero potuto raggiungere. E quindi spazia in attività culturale, in attività editoriale, il giornale social news, scriviamo libri, però facciamo anche attività umanitarie nei paesi di sviluppo, però lavoriamo per i bambini che non hanno genitori, nelle adozioni e vi dicendo.